Facile, facile, facile. Non solo perché ha segnato subito, ma una partita in cui il Genova non ha detto niente, non ha messo nulla nella partita questo Genova. L'Inter è andata così, è andata facile a vincere. Ha segnato Lukaku, ha segnato Darmian, ha segnato Sanchez. Adesso spetta al Milan. Spetta al Milan perché se il Milan non dovesse vincere, l'Inter si troverebbe a sei punti dalla seconda. Cioè, non è una fuga, è più che una fuga. Questo è un salutare a tutti. L'Inter saluta a tutti e se ne va. Bisogna dirlo, ragazzi. A livello di campionato è così. L'Inter praticamente è stata seconda in campionato tutto il tempo, dopo ha messo la freccia, sorpasso e se ne è andata. Questa è la storia di questo campionato. Dopo l'Inter ha problemi finanziari, ne parleremo in altri video, in altre situazioni, ma secondo me non andranno a influire su quello che è il corso di questo campionato. E quindi il diciannovesimo campionato è davvero vicino. Il diciannovesimo campionato, il diciannovesimo è vicino, è vicino. Bravi, bravi tutti, bravi. Bravo Lukaku. Bravo Lukaku che ha aperto le danze e dopo è la squadra di Lukaku. Questa squadra è la squadra di Lukaku e la squadra di Conte. È la squadra di Conte e la squadra di Lukaku. Sicuramente sono loro due gli attori principali. Dopo c'è tanto, c'è tanto, perché l'autore mi è piaciuto anche tanto a me. È piaciuto oggi, peccato per il gol, che è mancato il gol. Come partita diciamocela tutto, un po' noiosetta. La partita in sé, il primo tempo in sé è stato un po' noioso, ma per la pochezza del Genova, non per l'Inter. Non per l'Inter, proprio per la pochezza del Genova. Non pungeva, non faceva nulla. Eppure non c'era perché stava facendo punti su punti e stava dando fastidio a tutti. Ma noi non siamo la Juventus che pareggia a Verona e questo me lo dovete un po' consentire. Siamo davvero, stiamo davvero salutando la compagnia e stiamo andando a vincere questo scudetto. Ragazzi, iscrivetevi, questo canale sta volando. Mettete un like, seguitemi, DiegoCtn08 su Instagram. Commentate, campanella. E cosa mi è piaciuto, oltre alle giocate di Lukaku? A me è piaciuto il risultato, però ho pensato una cosa. Questa squadra non gioca più nelle coppe, quindi ha tutta la settimana libera. Mi ha un po' stranizzato il fatto che per un certo punto della partita si era un po' impigreta. E davvero sembrava pigra. Voglio pensare che sia una cosa così passeggera, ma risolviamola subito questa cosa. Conte la vedrà, la vedrà, questa cosa la capirà, perché bisogna sempre essere sul pezzo. Però, ripeto, se il Milan non vince o addirittura, se il Milan perde, la seconda è a 7 punti. Se il Milan pareggia, la seconda è a 6 punti. Sono tanti. Sono tanti perché le partite adesso sono meno. Il Milan è riuscito ad essere a più 5 dall'Inter, ma con tutto un campionato davanti. Adesso, invece, le partite incominciano a diminuire. Quindi il vantaggio di 6 punti è quasi un dire... E con la frusta, zack, saluti tutti e via. Questo è quello che succede nel ciclismo. È quello che succede. Si vede quando, specialmente in salita, il più forte se ne va. Lo vedi, lo senti, lo percepisci. È il momento che percepiamo un po' tutti. In questo momento è proprio questo, che la squadra più forte stia andando. Perché l'Inter ha la squadra più forte. Dopo c'è una questione finanziaria. Non so se farò il video oggi o lo farò domani, per spiegare bene la situazione. Anche come il gruppo Suning è arrivato a questo punto. Perché non è una cosa che attiene l'Inter. È una cosa che attiene il gruppo di riferimento, il gruppo Suning. E quello non ci può fare niente. Non ci può fare niente. Bisogna capire quei debiti ha l'Inter. Bisogna davvero capire che debiti ha l'Inter. Siccome questi debiti sono andati ingrossando con il non pagamento degli stipendi. Non so se hanno pagato i fornitori. E quindi c'è un po' di debito. Bisognerebbe prendere una banca, un fondo, che ti dà 150 milioni per mettere a posto questo. Però dire, io ti do 150 milioni. Cioè, mi prendo 150 milioni. Alla prossima vendita questi ti daranno indietro 200 milioni. Cioè, la farò di separata sede la discussione sul momento economico dell'Inter. Il momento calcistico è un Inter che se ne va. È un Inter che va a vincere lo scudetto. Va a vincere lo scudetto perché, ripeto, i punti sono tanti. I punti sono tanti. Non vedo quest'Inter crollare. E non vedo le altre squadre fare il filotto dei punti. Perché hanno tutti un po' il muso lungo. Anche la Juventus ha il muso lungo. Il Milan bisogna capire stasera. Se il Milan dovesse perdere, se ne va a sette punti, il muso diventa lunghissimo. Capite? Quindi, dietro la Lazio, non ci sono squadre che stanno arrivando prepotentemente. Anzi, l'unica squadra che sta camminando e sta viaggiando prepotentemente è l'Inter di Lukaku. Ragazzi, detto questo, l'Inter di Lukaku e di tutti gli altri. Detto questo, iscrivetevi su questo canale. Iscrivetevi, seguitemi su Instagram e dico ctn08. Un like, una campanella o un commento. Ci vediamo più tardi, probabilmente per il Napoli, sicuramente per Roma-Milan. Ciao, ciao, a più tardi. Ciao ragazzi.